Stiamo raccogliendo firme per liberare la RAI dai partiti, basta con Minzolini, basta con i telegiornali Fasulli, vogliamo un'informazione indipendente, autorevole, democratica. Non vogliamo più personaggi quali professionisti modesti, vogliamo professionisti con la schiena dritta, indipendenti dai partiti. Libertà e giustizia raccoglie firme per liberare la RAI dai partiti. Vogliamo una stampa delle tizze autorevole, dei telegiornali Fasulli. Grazie a voi che siete veramente comiabili. Basta con i telegiornali Fasulli. Vogliamo un'informazione libera, indipendente, democratica. Non vogliamo più telegiornali Fasulli. Vogliamo notizie vere. Non vogliamo che i professionisti che lavorano meglio siano calcianti. C'è democrazia solo se le persone sono informate, altrimenti c'è populismo. e non lo vogliamo più. Vogliamo una democrazia partecipata. Vogliamo un'informazione vera. Non vogliamo più telegiornali Fasulli.